Vecchie tecniche, fallimento assicurato. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è sempre quello di fornirvi delle novità che servono ad affrontare le nuove diversità che si stanno verificando nell'ambiente dove vivono le api, dove devono produrre le api e tutte le altre novità che conseguono relative al cambiamento meteoclimatico e alle fioriture. Vi ricordiamo che dopo il 23 novembre, dal 24 novembre di quest'anno, 2023, le videoformazioni per corsi singoli non saranno più vendute. La nostra formazione comprende tre corsi, quindi se siete interessati al corso singolo avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita perché dal 24 novembre in poi non saranno più vendute singolarmente. E ora entriamo nell'argomento. Noi siamo molto rispettosi nei confronti di tutti gli apicoltori, di tutti i professionisti, obbisti o apicoltori professionisti a tempo parziale che hanno prodotto miele e reddito per se stessi e per la loro famiglia nel corso del tempo. Siamo estremamente rispettosi, però ricordiamo che comunque è sempre stato un lavoro da operai specializzati. In tutto questo andazzo che è stato all'apicoltura italiana fino ad oggi completamente carente di innovazione e di sperimentazione possiamo parlare di apicoltori che sono degli operai specializzati. Il settore è stato totalmente carente di innovazione e di sperimentazione. A questo invece noi ci siamo dedicati praticamente quasi fin dall'inizio. O comunque quasi fin dall'inizio abbiamo focalizzato il pensiero verso una nuova metodica per portare avanti l'apicoltura. Tuttavia pur portando rispetto a questi apicoltori più o meno esperti che sono andati avanti nel miglior modo possibile devo parlare anche di coloro che magari hanno fatto l'apicoltore per 40-60 anni e credono di poter gettare fango su quello che stiamo facendo ora noi. Dico questo perché io non volevo assolutamente parlare di questo però si sa che ci sono tante persone che piuttosto che ammettere a se stessi le proprie mancanze, i propri errori preferiscono, trovano più comodo gettare fango su qualche cosa che non conoscono perché sostanzialmente non conoscono la nostra formazione perché chi conosce la formazione è chi l'ha pagata, chi l'ha comprata. Quindi non conoscendo né noi né la nostra formazione si prendono diciamo la libertà anche pubblicamente con commenti tramite i social di fare dei commenti stupidi stupidi perché quando si commenta senza cognizione di causa qualcosa che non si conosce si commette soltanto una stupidità io non dico che queste persone siano stupide però in certi comportamenti sono sicuramente stupidi e quindi ne dobbiamo parlare ne dobbiamo parlare perché certi personaggi sono dannosi non per noi perché non ci praticamente ci scivolano addosso i loro commenti non ci cambiano nulla più che altro sono dannosi per i neofiti cioè coloro che sia che siano di età giovane o più o meno giovane si approcciano all'apicoltura e cercano una luce con una guida che le introduca nel settore apicoltura ora già rivolgersi a qualcuno che è andato bene nei suoi primi anni di lavoro e poi col tempo ha visto calare sempre di più il lavoro e la possibilità di vivere con questo lavoro e quindi è deluso è già sbagliato è già sbagliato rivolgersi a questi personaggi perché vuol dire che sono personaggi che non si sono rinnovati in realtà l'apicoltura nel mondo ancora esiste e quindi se esiste nel mondo perché non dovrebbe esistere anche nel nostro paese magari nel nostro paese possiamo farla in modo diverso o anche meglio di quello che si fa in altri paesi e questo qui non fa altro che valorizzare la nostra apicoltura ma è questo che dobbiamo puntare a fare non è gettando fango per non dire cacca sul lavoro degli altri che non si conosce che si va a migliorare lo stato dell'apicoltura non si va a dare neanche né fiducia né formazione adatta a chi inizia ora quindi se a voi anziani apicoltori è andata sempre peggio vuol dire che non vi siete saputi rinnovare né sulla tecnica né sulle modalità di commercializzazione del miele quindi avete usato sempre i soliti mezzi magari che cos'è che lasciate ai giovani gli lasciate la conoscenza delle stecchine di legno insuppate nell'amitraz o nel berlain che qualcuno di voi lo conosce bene questi nomi che poi infilate in mezzo ai favi del nido delle casse questo è quello che gli lasciate gli lasciate il vecchio cassone da Dan Blatt invenzione del 1859 gli lasciate questo questa è la vostra esperienza beh saranno tecniche che vi sono servite a fare quello che avete fatto per un certo periodo della vostra vita finché le cose sono andate bene in una certa maniera oggi come oggi non è con questo che si va avanti quindi e anche gettando del pessimismo rispetto a chi inizia non si va avanti o dicendo oh ma quello lì è uno stupido non fa niente è tutto chiacchiere come un noto film è tutto chiacchiere distintivo mi viene da sorridere veramente mi viene da sorridere perché sono tutte affermazioni di gente che non conosce né noi me il mio figlio il lavoro che stiamo facendo e neanche le nostre tecniche quindi ovviamente chi è facilmente influenzabile che non è padrone di un pensiero proprio si fa influenzare da certi personaggi a noi non ci interessa noi non ci rivolgiamo a certi a certe persone sia che non vogliamo diciamo vendere la nostra formazione né a chi cerca di screditarci né a chi gli va dietro perché diciamo che il loro pensiero non corrisponde a quello nostro e quindi neanche il loro modo di agire corrisponde al nostro quindi non non ci rivolgiamo a queste persone però le persone intelligenti che riescono a capire quale sia la maldicenza e quale sia la verità la buona fede a questi sicuramente ci rivolgiamo e siamo e diamo la nostra piena disponibilità per queste persone che non comprende soltanto la vendita di alcuni videocorsi attenzione questo è un punto chiave ma lo vedremo un po' più avanti certi personaggi magari sono oltre ad essere frustrati dalle cose dai fatti che sono cambiati le difficoltà che sono aumentate che non hanno saputo affrontare a volte sono anche invidiosi e non lo sanno ci sono molte persone invidiose che non sanno di essere invidiosi e allora piuttosto che rimettere in discussione il proprio modo di lavorare di pensare è più facile gettare le tame sull'attività degli altri ma io so che voi che siete intelligenti questo discorso lo capite ora veniamo a dei punti essenziali durante durante la mia carriera apistica io ho messo insieme una serie di punti non lo dico per farmi grande e farmi bravo ai vostri occhi ho messo insieme una serie di punti che un apicoltore solo in tutta la faccia della terra non ha non ha messo insieme oltre che a me sembra un grande elogio a me stesso vabbè prendetelo come volete ma è la realtà e ora ve li elenco ve li elenco questi punti perché corrispondono a realtà e a noi me e mio figlio che facciamo questo mestiere ci interessa dire la realtà perché noi non pensiamo di rivolgerci a dei cretini i cretini li lasciamo volentieri da parte pensiamo di rivolgerci a gente consapevole e intelligente che vuole progredire quindi come dice il proverbio le bugie hanno le gambe corte se io vi raccontassi delle fregnacce chiaramente la nostra fama avrebbe breve seguito invece noi non vogliamo vogliamo continuare vogliamo continuare sia per interesse nostro personale ma per voi anche perché il nostro interesse personale deve corrispondere a una crescita vostra se no non è un interesse personale né lecito né che non fa crescere né voi né noi dal punto di vista hobbistico o professionale che sia poi dal punto di vista etico non è il nostro modo di fare quello di raccontare delle balle e trattare la gente come se fossero dei pesci da pescare no la nostra disponibilità è nel farvi crescere e vi ripeto non comprende soltanto la vendita di videocorsi c'è c'è anche un seguito successivo ma ne parleremo in seguito allora io ora vi faccio un breve discorso di quello che ho messo insieme nella carriera apistica io ho iniziato nell'84 e nel 98 ho iniziato a selezionare api a fare selezione di api quindi a produrre regine nuclei di fecondazione migliorando dal punto di vista genetico il mio apiario con la finalità primaria di ottenere delle api che reagissero in modo indipendente alla varroa destructor e alle virosi che trasmette i risultati sono arrivati sono cominciati ad arrivare dopo 10 anni io per 10 anni ho continuato a lavorare senza avere come se fossi un navigante che naviga in un mare sconosciuto e non sa dove deve arrivare ho continuato a sperimentare a fare in certi momenti devo dire che mi sono anche detto ma che sto a fa perché non vedevo la terra come quello che andava a conquistare l'America e non sapeva così dicono che dall'altra parte c'era l'America quindi io ho navigato a vista così senza sapere dove sarei arrivato di preciso per 10 anni dopo 10 anni come potete vedere anche dai primi video che partono appunto dal 2009 iniziai a filmare il comportamento WSH che è l'acronimo della dicitura Varroa Sensitive Hygiene cioè diciamo nome inventato cioè coniato dal ricercatore Arbo un ricercatore americano un professore che a mia insaputa perché io non sapevo che ci fosse qualcun altro che stava facendo lo stesso lavoro mio ha documentato anche lui il comportamento WSH cioè quello delle api di disopercolare le celle dove sono le loro pupe togliere le pupe infestate e interrompere così il ciclo riproduttivo della Varroa questo è una delle caratteristiche su cui ho lavorato per la selezione della resistenza alla Varroa oggi come oggi si parla solo di WSH in realtà io ho lavorato su vari aspetti che concorrono nel determinare una resistenza reale alla Varroa e alle virosi e sono tutti gli aspetti che ha sviluppato la pecerana in natura perché la resistenza alla Varroa che ha l'ape cerana cioè l'ape orientale dalla quale è stata arrivata la Varroa anche in occidente ha dei meccanismi di difesa che comprendono varie situazioni varie diciamo caratteristiche ereditabili geneticamente e io non mi sono concentrato solo sul WSH quindi questo è il primo elemento che ho messo insieme in tutti questi anni di apicoltura andiamo al secondo elemento inizialmente la mortalità quando iniziai a selezionare era altissima diciamo quasi tutte morivano quindi avevo la necessità di sviluppare una tecnica che mi servisse a creare tanti nuclei di fecondazione da poche arnie di partenza da pochi alveari di partenza quindi a iniziare dal 2000 praticamente io ho messo insieme una tecnica per sviluppare tantissimi nuclei per mettere in prova poi le discendenti delle migliori regine che mi rimanevano e per ripetere il processo della selezione del miglioramento genetico questa tecnica poi è applicabile per produrre un quantitativo di nuclei maggiore molto maggiore di quello che si fa normalmente in una apicoltura convenzionale come si applica fino ad oggi quindi è una doppia funzione mi è servita per portare avanti la selezione mi è servita anche per creare questa tecnica che potete imparare anche voi altra cosa altra tecnica altra tecnica per attirare a se stessi cioè non andare a cercare ma far venire a noi tramite delle arnie trappola si vedo che vedete qui a destra tramite delle arnie trappola particolari che vanno utilizzate in modo particolare per catturare gli sciami che vanno in giro che possono essere anche sciami che scappano da apiari di gente che non le sa gestire bene quindi vanno in giro e magari vanno a rompere le scatole a qualcuno che di api non ne vuole sapere niente o magari gli ammazzano il cane chiuso in un box mi è capitato anche a me purtroppo quando ero veramente un novello primo secondo anno di attività mi scappò uno sciame e mi uccise il cane il cane che era non poteva scappare perché era chiuso era legato e venne ucciso cioè queste cose non devono accadere assolutamente non devono accadere e soltanto se si è formati a quel tempo nessuno mi insegnava queste cose nessuno le insegnava non mi insegnava a me a nessuno le insegnava cioè quindi la gestione dell'apiario è importantissima è importantissima per non perdere le api è importante per non creare situazioni di pericolosità ad altri animali e ad altre persone quindi gestire le api non è come la vispa Teresa tra l'erbetta che va correttino a prendere la farfalletta no è un'attività affascinante un'attività bella può essere un'attività costruttiva remunerativa ma va fatta nella giusta maniera arriva il 2012 2012 avevo già appunto da tre anni filmato le prime i primi risultati sulla selezione sulla resistenza varroa e ricevo un riconoscimento depositato all'unione europea che si intitola cavaliere della peregina ho ricevuto questo riconoscimento presso il comune di c'era stata tutta una cerimonia presso il comune di cuneo e di questo potete vedere anche il video vabbè è un riconoscimento per carità c'entra niente con quello cioè c'entra con quello che ho fatto però anche quello anche quello esiste successivamente a seguito dell'acquisto e dell'uso di nutrizioni liquide e solide che fornivo all'apiario vivi che quello che compravo erano praticamente soldi buttati via per quello che fu i prodotti che acquistavo che comunque erano prodotti conosciuti erano soldi che buttavo via quindi spendevo e non ottenevo il risultato giusto spesso e volentieri mi rimanevano dei mattoni di zucchero secco all'interno delle arnie questo mi fece molto molto arrabbiare perché mi senti preso in giro cioè chi le fa queste cose le fa qualcuno che pensa soltanto di vendere dei prodotti a dei cretini allora mi hai fregato una volta non mi ci freghi più visto che da parte mia ho una notevole conoscenza della chimica degli alimenti mi cominciai a fare degli impasti degli impasti e quindi arrivai ad una serie di formule di canditi soprattutto successivamente anche di sciroppi e questi canditi io le proposi anche ad una multinazionale anzi le presentai a più di uno poi mi rispose una multinazionale francese che era molto interessata a produrli quindi io dovevo fornire a loro il know-how si dice la metodica insomma si viene chiamata con questa terminologia inglese il know-how per produrre questi canditi ci fu una una trattazione cioè io ti do le formule volendo ti sto anche dietro un po' la produzione mi devi dare qualche cosa visto che poi i soldi ce li fai te ci fu una trattazione fra avvocati io ero seguito da due avvocati e loro avevano il loro avvocato e ci fu una lunga trattativa noiosa veramente snervante dove questi alla fine in un modo o nell'altro non cedevano ad un millimetro e allora a un certo punto i miei avvocati mi visto guarda questi se ti va bene ti danno mille euro e un calcio nel sedere a quel punto io dissi no e ho preferito creare queste formazioni per darle a voi e quindi è stato meglio così sono uomo libero e in qualche modo rendo liberi anche voi perché non vi cioè se fosse andato bene l'accordo io avevo anche un dovere di riservatezza nella costituzione di queste formule nei confronti di questa di questa società no invece così è andata male a me mi è costato 3.000 euro di spese legali però allo stesso tempo vi ritorna a voi mi ritorna anche a me con quello che ci date come riconoscimento economico per la nostra formazione e siamo tutti meglio stiamo tutti meglio di prima dal 2016 allora la mia attività è anche diventata attività di formazione per gli apicoltori o gli aspiranti apicoltori e questa è un'altra buona cosa un'altra buona cosa perché vi permette di iniziare o comunque procedere se siete già iniziati di procedere in un lavoro con un'ottica nuova che si aggiunge per chi ha già esperienza a quella che che uno ha e per chi non la ha permette di iniziare con il piede giusto quindi dal 2016 stiamo facendo anche questa attività arrivo al 2021 dopo facendo tutto quello che ho fatto mi sono dedicato anche all'osservazione della vita degli alveari alle dimensioni medie del favo naturale e quindi ho studiato per almeno una ventina d'anni oltre a tutte queste altre cose che vi ho elencato quale fosse la misura media più favorevole alla vita delle api noi sappiamo che la celletta ha una certa dimensione che può variare di poco ma insomma sempre una celletta piccola è quella delle api per tanto tempo non si è considerata l'altezza e la larghezza favo quindi c'è un'altezza e larghezza favo media sulle quali le api lavorano molto meglio rispetto a quella che è l'altezza e larghezza favo delle arnie più comuni che si conoscono sto parlando di D'Adam Blatt Langstroth la Langstroth tra l'altro la più utilizzata ancora nel mondo Langstroth Varret Top Bar poi non so se me ne scordo qualcuna queste sono le principali arnie che vengono utilizzate o per uso professionale o per uso hobbistico quindi creai questa nuova arnia basata su questo studio durato molto a lungo che ho effettuato nel 2021 è nata l'arnia GS alle mie iniziali Giuliano Stracci quindi quest'arnia GS offre delle grandi opportunità e qual è innanzitutto spinge le api prima ad andare al melario rispetto al cassone da adant che utilizzate qui in Italia spinge le api molto prima ad andare al melario permette una termoregolazione sia estiva che invernale straordinaria ovviamente con la tecnica giusta cioè non è che l'arnia in se stessa da sola va è come come dire ti do la Ferrari e la Ferrari va da sola e ti ti fa vincere il gran premio andando da sola no ti do cioè ti diamo l'idea e anche le misure per costruirtela un'arnia particolare sulla quale tu ti puoi impegnare con una certa tecnica per ottenere il massimo e è molto più reddifizia di quello che è il vecchio cassone da adant cassone che è cassone anche se è un'arnia tenuta su cinque telaini c'è tanta gente che produce su cinque telaini da adant rimane sempre un cassone perché quella larghezza favo che hanno cinque telaini in un alveare naturale probabilmente non ce n'è neanche uno che raggiunge quella larghezza favo del telaino da adant in un alveare naturale volevo dire cioè un alveare costruito naturalmente dalle api quindi che vuol dire questo vuol dire che le api si sono selezionate soprattutto per milioni di anni in verticale all'interno di alberi cavi e lavorano bene in verticale non in orizzontale su quelle misure che non sono per loro ergonomiche cioè è come se noi avessimo il salotto di casa largo cinquanta metri e lungo cento metri e chi ci devo invitare è un esercito dentro casa devo creare devo fare il ballo di gala la stessa cosa vale per le api cioè ci sono delle misure le misure delle misure medie che vanno rispettate se vogliamo che ci diano il massimo e che stiano bene loro perché ci danno il massimo quando stanno bene loro altra particolarità che ha quest'arnia è già strata strutturata in partenza per poter effettuare dei trattamenti biologici particolari con una metodica nuova sull'uso dell'acido formico non è una metodica mia questa è una metodica che ci è stata trasmessa da un apicoltore professionista biologico molto in gamba che produce varie tonnellate di miele biologico ogni anno quindi quest'arnia ha anche questa particolarità noi non la utilizziamo noi non utilizziamo i trattamenti né biologici né chimici da 16 anni contro la varroa però capisco che chi non ha api selezionate lo deve fare quindi abbiamo abbiamo creato anche questa particolarità vantaggiosa altro step che è iniziato quest'anno nel 2023 forse dovevo iniziare anche prima ma quest'anno abbiamo iniziato a fare selezione per avere magari in futuro futuro prossimo si spera delle api che reagiscano in modo significativo alla presenza dei calabroni quindi api che devono attaccare il calabrone in volo che non si limitano esclusivamente ad attaccare il calabrone quando entra all'interno dell'arnia ma attaccare il calabrone in volo davanti al predellino dell'arnia che sta in caccia davanti alle arnie quindi noi da quest'anno abbiamo iniziato a fare questo tipo di selezione quindi già dal prossimo anno inizieremo a produrre delle regine da delle fattrici che sono risultate più reattive non dico che abbiano già che abbiamo raggiunto questo risultato adesso abbiamo iniziato a lavorarci sopra e questo è importante perché i metodi che vengono utilizzati ora le trappole le tecnologie per individuare i nidi nei boschi dove dove stanno i nidi dei calabroni le trappole con le bottiglie con il lievito lo zucchero quello che sia la birra vanno bene ma non sono in grado di eliminare il problema lo dimostra il fatto che la vespa velutina si sta espandendo continuamente quindi bisogna applicare anche altro io non dico che non dobbiate applicare certi espedienti che si usano ora bisogna applicare la selezione quindi tutto questo noi l'abbiamo riunito e tutte queste questo percorso che ho fatto io se fate il giro del pianeta terra non trovate un altro apicoltore che l'ha fatta tutte queste cose non me ne frega niente di dirvelo per dire che sono bravo è la realtà e la realtà va detta quindi chiudiamo l'accesso ai nostri corsi singoli a partire dal 23 novembre di questo mese 23 novembre 2023 si chiudono la vendita dei corsi singoli quindi se volete avere un corso singolo avete il link in descrizione per la prima lezione gratuita e ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti